Qualificazione è un passo, siamo molto contenti dei risultati odierni, adesso ci manca andare in Russia a Kazan con un occhio di riguardo in questa settimana per gli altri risultati degli altri gironi. Noi adesso in questo momento siamo molto contenti del risultato del nostro girone perché è un girone molto difficile e siamo molto contenti del nostro gioco espresso, sicuramente abbiamo anche la possibilità di andare a vincere il girone, vediamo di riuscirci e di provarci. Ci hanno messo nel girone allucinante perché è uscita fuori una wild card da Novo Sibirsk, che è la campione in carica, però bene così, le cose facili non ci sono mai piaciute, soprattutto quest'anno, quindi prendiamo tutto quello che viene di buono e lo facciamo il nostro. Una piccola rivincita contro i russi una volta. Sì, mi sa che ci dovremo giocare parecchie volte quest'anno, quindi aspettiamo altre rivincite.